buongiorno allora oggi il 22 luglio 12 e 30 facciamo questa analisi settimanale di lunedì perché in fine settimana non ho avuto tempo e in modo e partiamo con quello che il mercato aperto al momento che sta iniziando a fare un bel lavoro secondo me di costruzione finale c'è da stare attenti a capire questi due tre giorni quale sarà la sua intenzione perché perché il punto in cui è arrivato venerdì parlo del tax è un punto molto importante che può far capire se a breve quindi se sta parlando dell'estate vuole produrre un movimento short di una certa rilevanza se invece invece è una prosecuzione lunga o un mantenimento in questo range abbastanza prolungato allora andiamo a vedere in questi casi qui quando io ho un inizio ad avere dei dubbi su quello che il suo intendimento vado riparto da zero ricostruisco il tutto ora qui ho già disegnato quello che secondo me il triangolo che lui sta lavorando con un'uscita short fatta la settimana scorsa questo del deli secondo me un po anticipata anche se vicino alla punta del triangolo ma un po anticipata e quindi con la possibilità che possa essere attraversata long qua ora qui bisogna che lo riaggiorni scusate ragazzi perché investing tutte le volte sto benedetto problema richiede un aggiornamento comunque perché riaggiornare il grafico in questo senso oggi cosa ha fatto stamani praticamente partendo diciamo da un punto abbastanza importante del grafico daily daily sui time frame più bassi ha prodotto un movimento molto molto interessante disegniamo il triangolo eccolo qua come sempre facciamo le cose molto artigianali e questo è quello della famosa trendline meno ripida ok eccolo qua diciamo che entro il 28 di luglio quindi entro fine settimana dovremmo avere due effetti di questo movimento il primo il testing che arriva alla punta per poi produrre un eventuale ritorno short e qui poi vediamo qual è la cosa da andare a prendere eventualmente in questo caso oppure il riattraversamento long in questo caso la sua punta andrebbe a riattraversare long e ci facciamo finalmente il doppio massimo che massimo assoluto fra fondamentalmente del dax in questo senso perché non ci credo molto ancora che come dico spesso le fragole sono mature in questa situazione perché se vado sul settimanale e rivado a ricostruire quello che sta facendo quindi riprendiamo quello che diciamo ormai da qualche settimana questa è una 3d range settimanale una 3d range che ancora in fase di aggiornamento massimo e minimi con il primo centro verticale che è la candela dell'8 aprile la settimana dell'8 aprile quindi sono 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 siamo ancora la candela 16 una 3d range quindi il fatto che questa settimana o a breve entro le quattro settimane produca un movimento short importante lo vedrei con molto sospetto come sto vedendo con molto sospetto questo dei short per il semplice fatto che sarebbe molto anticipato rispetto a quello che dovrebbe essere l'uscita invece la 3d range settimanale che dovrebbe essere la ventunesima candela mantenendo questo range perché pare che questa 3d range abbia un range molto laterale e quindi qualsiasi eccesso di movimento short e long oltre questi massimi questi minimi che sono al momento il massimo il minimo di questa 3d range questo è il massimo e questo il minimo un movimento che va dal di fuori di questo massimo di questo minimo sarebbero sospetti se fatti prima della ventunesima candela prima di ventunesima candela si vada a prendere la gente si sta parlando praticamente delle prima settimana di settembre quindi luglio agosto io l'avrei singloria perché l'intraday come stamane si fanno belli luglio agosto potrebbe diventare ancora una situazione di range di stop hunting cioè finti short e finti long per poi andare a prendere i contratti degli stop loss di quelli che li mettono lunghi per non essere presi ogni volta in questo senso quindi poi tra l'altro sono grafici che non vanno molto d'accordo perché se prendo settimanale all'interno di una congestione trovo un pattern di rosse di una certa rilevanza che sono molto utili all'interno delle congestioni anche se molti li usano al di fuori di congestione pericolosamente che è quello delle 3 candele verdi più ritracciamento quindi la rottura del massimo di questa candela qui del doji questa quella del primo luglio quindi guardate il caso all'altezza della museum bar della congestione potrebbe produrre un'accelerazione long perché sarebbe un movimento di accelerazione di preparazione accelerazione long all'interno di una fase congestionata sia che si tratta di una 3 di range sia che si tratta di una congestione qui ce l'abbiamo tutte e due quindi praticamente la cosa potrebbe assumere un'importanza non da poco tra l'altro questa congestione che abbiamo disegnato è all'interno di una congestione precedente quindi questa uscita della terza candela potrebbe produrre l'uscita di entrambe le congestioni in versione long è da dire che settimanalmente questo è un treno è un setup potrebbe essere anche inteso come un segnale short alla rottura del minimo con questo treno è una cosa da vedere generalmente questi tipi di rotture sono belli se avvengono alla fine candela quindi iniziere a vedere se inizia a cedere da mercoledì giovedì se entrare invece in questo setup è short cercando un ingresso dei di ma al momento la cosa ancora non mi convince per niente tra l'altro l'unica doge che aveva la lavorata rompendo la prima sotto e quindi sostiene praticamente questa congestione tenete presente che comunque queste figure tipo questo cluster qui questa in sede rossa qui e anche queste cose non risolte qua sotto sono comunque figure di richiamo futuro short però qui noi abbiamo problema di timing eccetera il discorso di dire sarà short è questo dell'importanza secondo me nel treno può portarmi adesso a prenderlo short però se questo prima dello short prima di andare a prendere questi punti che prima o poi sono molto appetibili prenderà parlo di questo inside del 29 aprile di questo cluster fatto nel mese di giugno capace che lui si faccia mille duemila punti long quindi ritornando sempre al solito discorso noi stiamo usando prodotti in margine quindi è inutile che io mi metta a fa short qui e a iniziare a mediare come se non ci fossero domani occupando margini quindi occupando anche opportunità di guadagno intraday perché sono bloccato su questa posizione perché sarà short questo è capace che diventi short ottobre perché a settembre mi fa si mi fa la prima uscita long della 3 di regge della prima settimana settembre weekly ci mette altre tre o quattro settimane poi per fare l'uno due tre ribaltarla e andare a riprendere questo cluster e questo inside quindi il concetto di anticipare sull'opinione perché secondo me short e questo grafico tenderà ad andare short nel futuro ma non adesso o non ci abbiamo segnale per dirlo questo tra l'altro sono tutta roba da testare aspettate questa l'avevo vista prima stamani quando facevo si diciamo che è testata però non sta da non mi sta dando questa certezza in questo senso io aspetterei prima di prendere un multiday il film di questa 3 di regge poi nel momento in cui lui inizia a scendere questa 3 di regge mi fa anche un uncino di continuazione short a sto punto bene l'altra cosa di come avevamo parlato in precedenza che rinnoviamo un attimino per capire la situazione sull'sp l'avevamo vista daily nel passato una situazione simile e poi se le fatte tutte e due questo è un cluster questo qua questo è un cluster questo qua uno dei due li farà per primo quello che far per primo potrebbe essere quello fail il mio augurio ma che altro mi augurio la mia idea perché per me questo nel futuro potrebbe diventare short che faccia prima quello sopra è perché potrebbe essere un'idea coerente se ci mettiamo nei panni delle mani forti che hanno quintali di contratti da distribuire se nel caso fosse shock nel futuro ho bisogno di tanti contratti in acquisto i contratti d'acquisto in massa abbastanza importanti sono tutti annidati qua sopra perché sono il risultato di gente che entrato short da un mese e mezzo pensando che ci fossero evidenti segnali short o di rotazione di mercato e che stanno mediando e quelli sono tanti contratti questi che devono saltare in aria perché la loro i loro soldi praticamente servono ai bighe per distribuire allora in questo caso qui è molto più incoerente l'idea che lui faccia il long andare a prendere gli stopi qua sopra un bel allungo tra l'altro perché da far saltare anche quei margini che vengono mediati che cercano di spostare il prezzo delle margin call per poi dopo tirare sulla catena e se questa procedura come mi immagino io la farà ci vuole un mese un mese e mezzo se non due su un settimanale pertanto va tenuto di conto dov'è l'incoerenza tra settimanale e daily per cui diciamo siamo in una fase in cui dobbiamo stare attenti a vedere cosa fa per primo questa parte sotto questa parte sotto il daily ha lo stesso pattern che aveva visto settimanale inverso alle tre candele short più ritracciamento però se andiamo a vedere bene e questo i dettagli sono importanti questo pattern lui l'ha già fatto perché questo è un massimo più alto di questo quindi le tre candele rosse più ritracciamento è stato fatto l'accelerazione è venuta alla rottura della terza candela e ora la sta mandando il falso breakout pertanto anche qui è vero che sembra un'incoerenza che potrebbe produrre una continuazione short sul daily in questo senso c'è un uncino cioè questo potrebbe essere anche un rh perché no però attenzione bene perché questo punto di arresto le prezze di ripartenza che sta facendo stamani avviene in un punto importantissimo e questo è la cosa da tenere sott'occhio il punto importantissimo è questa congestione daily che ormai la fa da padrona da un po di giorni che tiene botta frequentemente poi c'è da dire anche un'altra cosa questo a mio avviso sì è vero che è un massimo più alto ma è un doppio massimo in una logica di ripartenza di un movimento giusto in questo caso long è uno dei punti di ingresso più belli che ci possono essere perché la rottura di questo doppio massimo potrebbe realmente avere la spinta per fare questa procedura di allungo long perché potrebbe avere la spinta perché in questo doppio massimo qui c'è tanti stop l'osso degli short perché perché dal punto di vista di analisi tecnica tradizionale e doppio massimo è short e quindi se io sono short dentro questa storia qui il mio stop l'osso lo metto sopra doppio massimo perché penso che sia eterno che non venga mai ripreso ok ora questa cosa che sta producendo oggi potrebbe essere un treno daily la cui rottura long di domani potrebbe dare una continuazione niente male in accelerazioni long stesso discorso stiamo parlando solo della prospettiva long tenete presente che c'è anche una trend line rotta da testare che lei è questa qua ok viceversa dov'è che potremmo entrare short allora l'entrata short qui ragazzi secondo me è una sola è un eventuale uncino al di fuori di questo gruppo di congestione una volta che lui rompe il minimo qua può essere rischiato l'uncino anche qua però se vogliamo andare a fare trading seguendo fedelmente le regole di rosse ci sono due cose che non non dice di non fare per prendere questo uncino la prima perché dentro una congestione quindi potrebbe essere un problema la seconda se io intendo questo come è rrh ok quindi una corretta rottura del rivestero suc fatto qui perché il rivestero suc su questo uncino qua questo è perché ha fatto il corso sa bene di cosa sto parlando questo è real che è stato rotto bene perché è stato rotto con un 1 2 3 precedente e vedete che il doppio massimo di cui parlavo io diventa anche un punto di negazione del movimento short se lui dovesse riprendere questo però rossi non dice di prendere il primo uncino su una rottura di un revestero suc che questo qua dice di prendere secondo pertanto anche in questo caso il filtro per dichiararlo in accelerazione short deve essere applicato seguendo le regole e per ora non abbiamo ancora il segnale perché non è filtrato uno ripetiamo perché in congestione questo uncino due perché è un ribaltamento sul revestero suc che richiede un secondo uncino di conferma applicando chiaramente quello che sono le regole che abbiamo studiato di rosse su la gestione delle dinamiche di costruzione di un trend quindi riepilogando abbiamo un punto in cui nega il tentativo di costruzione short la settimana scorsa che è questo punto 3 abbiamo un punto di dubbio che questo rh che è dentro la congestione quindi potrebbe non essere buono potrebbe essere anche in falso breakout pertanto abbiamo un piano short che sarebbe quello di entrare eventualmente su un secondo rh che viene fatto al di fuori delle congestioni vuoi per farci un test e compagna beh dopo un'uscita short il piano long invece è quella del riattraversamento long di tutta questa roba qui che sappiamo che lui ha lasciato colpevolmente in eseguita perché ha eseguito questo massimo qui ma non questi questo è un altro doppio massimo è il fatto che la costruzione frequente ai doppi massimi possa essere un indice di tentativo long e quindi che questo treno per esempio dato che è fatto sul daily fuori della congestione daily domani può essere un punto di ingresso con uno stop e loss abbastanza dignitoso perché praticamente è questo o aspettare perché no un 1 2 3 su questa congestione qui che riprenda e faccia la trappolina qui vediamo come si comporta il settimana comunque abbiamo le due i due piani per una versione sia short che long quindi non voglio dare né indicare short né indicare long dico che ha istinto però io che sto parlando a istinto e tra il weekly e il daily io di short ne vedo poco però questa è una questione istintiva poi i grafici si ti abitano a dire nel passato questa cosa è diventata long la costruzione grafica è una dinamica long stanno d'accordo e poi dopo ti sorprende lo che ti fa un bel segnale grosso con una casa short allora in quel caso lo devi mettere comunque in conto che potrebbe avvenire se per me per convincermi short deve avvenire qua sotto l'altra cosa per cui ancora sono dubbioso che siano maturi quindi insieme al fatto che è nato di range settimanale bisogna aspettare settembre l'altra cosa che mi fa capire che bisogna aspettare settembre anche sul daily è che qui sta costruendo quello che per me nel futuro è una figura short che questa vu ma la sua il suo completamento deve avvenire per me con la rottura di un massimo c'è di tre massimi consecutivi poi tutti gli ordini che prepara qua sotto li vorrà rifare short per arrivare a questo massimo probabilmente ci deve mettere quindi due o tre settimane prima di arrivare a fine agosto inizio settembre ok allora visto il dax bene o male questa è la situazione non penso che ci sia nient'altro da aggiungere a una cosa sul dax c'è da aggiungere cavolo se c'è da aggiungere ragazzi il momento lungo di oggi è di una bellezza quasi imbarazzante c'è drammatica direi andrei a vedere il segnale intermedio il segnale intermedio che cos'è il segnale intermedio il massimo delle ultime tre candele e anche i massimi di una delle ultime tre candele qui abbiamo questo massimo che il massimo della candela di venerdì quindi lui ha deciso di non rompere il minimo ma di rompere il massimo e generalmente intorno a questo massimo dovrebbe produrre una congestione andiamola a cercare o prima del massimo produrre una congestione che è quella buona per attivare il nostro ingresso alla ricerca del segnale intermedio e questa è la congestione ed è di una ragazzi questa è di una bellezza imbarazzante perché congestione la guardiamo bella grande costruita un'apertura a cinque minuti disegniamola meglio perché la musica di barco più ampia eccola qua e a metto con le freccettine così e ragazzi se si studiano le figure e le tecniche poi alla fine danno anche soddisfazione prima uscita long test ritracciamento sulla precedente guardate con che candele piccole l'ha fatta questa cosa il test e produce un rh ingresso stop loss non è perfetto di più a tutto la congestione è aperto da cinque minuti a quanti punti sotto il segnale intermedio 18.240 ora c'è arrivato vedete che si è fermato 180 punti 180 190 punti sotto ci fa la congestione testata in seconda uscita e poi inizia a fa un cini dove la gente entra short perché dice che è arrivato al massimo no 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 questo qui si sta divertendo a far entrare gli short altro uncino gli uncini servono a questo ragazzi sono a dare la presentazione di fine trend per andare poi a prendere stop e loss che ti fanno ancora aumentare ti fanno ancora far salire i prezzi perché il loro obiettivo era questo qui l'ha finanziato la gente che è entrata short in apertura perché sempre solite cazzate di più in settimana poi dopo si è esaurito l'impulso da parte dei retail che saltano ce ne vogliono dei nuovi o di gente che media e li facciamo saltare piano piano ne fa di saltare mi guadagnano tre pezzi di bucche in prezzo e loro non stanno facendo niente producono solo un minimo sosta di piccole quantità di contratti in vendita qui che sono intanto che i profitti parziali che hanno generato da qui e poi dopo li rimettano dentro e ridanno la spinta per far andare a prendere gli ordini tenete presente che c'era una sequenza di ordini ma noi l'abbiamo vista la settimana scorsa che prima o poi questa sequenza di ordine avrebbe innescato tra l'altro ci sono anche degli indicazioni per cui questa cosa qui poteva tranquillamente succedere questa è una congestione non testata con tante di cluster questo è un cluster questa è un'altra congestione non testata non ci sono altri auguri a chi ha entrato il short secondo me vanno fatto tanti fare auguri vediamo intanto questo punto qui è importantissimo e va visto poi dopo se prosegue sul daily nell'andare a prendere anche gli altri due segnali intermedi perché c'è questo e il gruppo di tre candele sono anche questi due non lo so se oggi vuole andare a prendere quel doppio massimo se lo fa nella giornata domani però lo vedo bello convinto vediamo gli esiti da qui in poi c'è la punta del triangolo che finisce il 28 di luglio per tanto ci sta che questo riattraversamento lo faccia in questi tre se lo fa in questi tre quattro giorni fino al 28 di luglio tra l'altro anche un'ora c'era tutta una serie di situazioni per esempio vedete un'ora è arrivato tranquillamente a riprendersi finalmente una congestione che va rotto short venerdì che non aveva testato eccola qua e guardate cosa ha fatto anche questa volta uscita non produce il test fa un minimo rifà un altro minimo la trappola e se lo va a prendere mentre invece se non avesse fatto quest'ulteriore minimo sarebbe stato forse un test più regolare ora qual è il discorso qua? perché bisogna stare attenti che uno dice ora entro long come se non ci fossero domani aspettando non ha testato nemmeno lei quindi un ritracciamento a riprendere degli short questa è la terza candela di prima uscita da questa congestione qui sotto che entra in questa congestione a riprendersi dei short che poi ridiventa long così facendo un altro trampolino di ordini di stop loss degli short potrebbe essere interessante e potrebbe coincidere essendo un grafico onore con il treno di domani ritracciato in parte e poi ripreso long e questa potrebbe essere una strategia molto interessante per domani in virtù del grafico onora ed è un piano è un piano di tre di aspettare il tracciamento su questa aspettare il test su perché diventerebbe un long e robusto non ha neanche ancora il 1 2 3 il test è su questa e poi se lo fa zig e zag in tutta la giornata o anche in parte di domani e poi ci andiamo a prendere il segnale intermedio treno daily e il doppio massimo che è praticamente questa zona qua questo è l'attraversamento di questo bellissimo cluster qua è molto nella dinamica più convincente che la prosecuzione short dov'è che invece questo piano salta in aria e ce lo dimentichiamo nel caso che rompa questo minimo qui e da lì si rifà un altro piano ma finché non mi rompio questo minimo qui per me questo non è short ok parlo di un grafico onora andiamoci a vedere brevemente l'SP che anche lui ha tirato un catenello allora l'SP ce l'avevamo lasciato con questa trendline molto ripida non testata rotta con un gap down e che deve essere testata ora questo è un cluster quindi siccome lo ha raggiunto venerdì con lo short cosa succede qua? possono succedere due cose riprendiamo la nostra cassettina degli attrezzi riguardiamoci il corso e da lì cerchiamo di capire come funziona quel cluster questi cluster possono essere supporti che resistono e quindi lui da qui genera un altro movimento che andrà poi visto nei segnali daily per andare a testare questa trendline e quindi un altro massimo assoluto oppure questi cluster qui possono essere attraversati short rimbalzando probabilmente appena ci arriva e facendo un uncino volta a riattraversare lo short quindi ci vuole in questo caso un RH questo RH tra l'altro coinciderebbe con 1, 2, 3 daily vedete perché ci sono dubbi se sarà short o long nei prossimi giorni proprio perché queste costruzioni qui sono molto contraddittorie fra di loro però noi dobbiamo guardare i grafici potrebbe poi a un certo punto a una certa data mettere tutti d'accordo questo 1, 2, 3 potrebbe essere interessante per riattraversare questo cluster a questo punto dovrebbe avere la spinta per raggiungere questi punti qua sotto viceversa il fatto che questo diventi un supporto può essere dato anche qui da un treno come sta facendo il DAX da un 1, 2, 3 qua sopra che vada a cercare poi il test su questo trend line in questo caso rischiamo di vedere dei massimi importanti perché questo trend line sale 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 molto velocemente quindi più tempo scimente più alto è il prezzo del test l'altra trend line quella più importante è questa qui siamo ancora nella zona praticamente di non rottura l'eventuale RH potrebbe dare due segnali importanti il primo di riattraversamento di questo cluster che coinciderebbe con la rottura di questo trend line allora in questo caso qui può avere un senso iniziarci a pensare di entrare multi day short perlomeno se ci dà anche uno stop l'osso e corto perché la convenzione è poca però potrebbe essere interessante tra l'altro potrebbe voler rinunciare a questo tipo di test qua e accontentarsi del test di questa trend line che ha fatto in questa zona qui che è una parallela della precedente praticamente anche qui è una prima rottura l'RH potrebbe essere il test per poi successivamente scendere ricordiamoci che il DAX è più basso dell'SP quindi l'SP potrebbe temporeggiare a fare questa cosa qui senza riparsi massi che ne so mentre il DAX si rifà serenamente e poi scendono tutti e due insieme su qualcosa che sarà poi comunicato che praticamente è già successo comunicato come evento scatenante di un eventuale ritracciamento importante in questo senso vediamoci brevemente anche il settimanale dell'SP è un treno reverse di quelli che non mi piacciono a me perché la candela è molto lunga copre outside la precedente pertanto è una rottura che se la fa non è per me gradita ho timore che questa diventi una candela verde volta a rinompere il massimo molte volte lo fa perché è questa che sia un RH quindi io confido di più sull'RH quindi su un ingresso a cercare l'RH l'uncino di prosecuzione lunga settimanale che andarmi a cercare invece questa rottura qui perché questa rottura settimanale prevede uno stop loss enorme si tratta una delle candele più grosse dell'ultime settimane diciamo che quella più grossa di questa risale alla settimana di aprile di 15 aprile per cui sapete qual è la mia logica se lo stop loss è troppo lungo probabilmente c'è qualcosa che non va nel trade ok basta io non andrei a vedere altro perché secondo me concentrarsi su queste cose è importante anche perché gli altri questioni che abbiamo visto la settimana scorsa rimangono più o meno invariati quindi basta andarsi a vedere le cose in questo senso anche Dollar Yen poi non ha proseguito quello short perché non era bellissimo però potrebbe preparare qualcosa successivamente direi di aggiornarsi alla prossima se ci sono delle novità chiaramente le faccio avere occhi aperti domani e domani l'altro perché c'è dei punti di ingresso che possono essere interessanti vediamo come chiude l'SP stasera che secondo me ci dà un indizio abbastanza interessante anche lui e DAX ce lo sta già dando buona settimana buon trading e alla prossima ciao a tutti